Un pull di commissari per velocizzare, in alcuni casi addirittura sbloccare, la ricostruzione pubblica all'Aquila e nei comuni del cratere sismico. La proposta viene dalla Confcommercio dell'Aquila. A farsene portavoce presso il Governo è stata l'Associazione Nazionale. Il Ministro Matteo Salvini, durante l'ultima puntata di Porta a Porta di Bruno Vespa, ha promesso di portare la proposta all'interno del decreto Sblocca Italia. La prima questione che abbiamo posto proprio una settimana fa presso la sede nazionale di Confcommercio, perché il Presidente Sangalli ha dedicato l'ultimo Consiglio nazionale al decennale del terremoto dell'Aquila. In quella sede noi abbiamo chiesto per superare tutti gli intoppi burocratici, perché c'è un santo protettore della pubblica amministrazione che si chiama San Ceppato. E quindi si inceppano le ricostruzioni pubbliche, non ci sono gli attrattori pubblici e allora noi dobbiamo lavorare su questo piano e abbiamo fatto una proposta che il Presidente Sangalli ha raccolta. Qual è? Di nominare commissari in tutti i crateri del centro Italia per aggiuevolare e fare più rapidamente le procedure di appalto, le gare, tutto quello che è necessario, per restituire gli attrattori pubblici che sono fondamentali per gli esercizi commerciali, perché se non c'è, come quando non avevamo il terremoto, se non c'è la Camera di Commercio, l'ufficio Anagrafe, l'ufficio della provincia, l'ufficio della regione, le persone non frequentano il centro. Il Vice Premier Salvini che ha raccolto questa proposta, per cui verranno con il prossimo decreto sblocca cantieri, verranno nominati finalmente i commissari straordinari. Questo è una svolta per la nostra città, ma per tutte le aree del cratere, perché si velocizzano le procedure e si restituisce la precondizione per fare il commercio.